L'APE sociale o anticipo pensionistico agevolato rappresenta un sussidio economico, un trattamento economico che è stato introdotto nella legge di bilancio per il 2017 allo scopo di accompagnare alcune categorie di lavoratori che il legislatore ritiene meritevoli di tutela al pensionamento, al conseguimento del diritto a pensione nel regime obbligatorio. L'APE non si configura quindi come una prestazione pensionistica vera e propria, ma è più assimilabile a una forma di sostegno del reddito che serve appunto a consentire al lavoratore anziano ma troppo giovane per conseguimento della pensione il raggiungimento della pensione, del diritto alla pensione di vecchiaia. L'APE è condizionato alla residenza in Italia in ragione del suo collocarsi a cavallo fra una prestazione assistenziale e una prestazione presidenziale, è riservato ai lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, abbiano cessato ogni rapporto di lavoro e si trovino in particolari condizioni soggettive che il legislatore appunto ha ritenuto meritevoli di tutela. Lo strumento di accompagnamento alla pensione rappresentato dall'APE sociale è stato prorogato di anno in anno fino alla legge di bilancio per il 2023 che l'ha prorogata. Come accennavo in precedenza i destinatari della misura appesociale sono individuati dal legislatore in lavoratori che si trovano in una condizione di particolare merito. In particolare il legislatore riserva l'accesso all'APE sociale ai cosiddetti caregivers, cioè quei lavoratori che assistono un parente di primo grado o il coniuge in situazione di handicap di gravità ai sensi della legge 104 del 1992, ai lavoratori disoccupati che hanno completamente saurito la fruizione della NASPI, dell'indennità di disoccupazione, ai lavoratori invalidi, cioè quei lavoratori in cui è stato riconosciuta una riduzione della capacità di lavoro di almeno il 74% e ai lavoratori che sono stati addetti ad attività gravose che sono individuate dall'allegato oltre alla legge 234 del 2021. L'APE sociale è condizionato, il diritto all'APE sociale resta condizionato inoltre alla maturazione di specifici requisiti anagrafici e contributivi. Per quanto riguarda il requisito anagrafico, l'ho accennato prima, è stato fissato dal legislatore in almeno 63 anni di età. Per quanto riguarda invece i requisiti contributivi, questi sono differenziati a seconda dei destinatari, in particolare per quanto riguarda i lavoratori caregivers disoccupati e i lavoratori invalidi, il legislatore fissa il requisito di contribuzione in almeno 30 anni. Per i lavoratori invece addetti ad attività gravosi, il requisito di contribuzione è leggermente più elevato, è un po' più elevato e è fissato in 36 anni di contribuzione, eventualmente ridotti a 32 per alcune categorie di lavoratori addetti ad attività gravosi. A tratto generale poi è previsto che il requisito contributivo possa essere abbattuto per le lavoratrici in ragione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni. I requisiti contributivi possono essere conseguiti anche attraverso l'istituto del cumulo, cioè attraverso un istituto che consente la riunificazione dei contributi accantonati presso differenti gestioni previdenziali. Le uniche gestioni che non possono essere oggetto di cumulo sono quelle rappresentate dalle casse dei libero professionisti. Nel caso in cui un lavoratore avesse dei contributi accantonati presso una cassa libero professionale, la riunificazione di questi periodi contributivi può avvenire solo attraverso la ricongiunzione onerosa. Al seguito della maturazione dei requisiti di accesso all'ape sociale, la prestazione viene corrisposta a una prestazione, dicevo prima, latamente assimilabile a una pensione, ma in realtà un sussidio di accompagnamento al trattamento pensionistico, che corrisponde nel suo importo alla pensione maturata al momento dell'accesso all'ape sociale e erogata per 12 mensilità. Peraltro questa prestazione è assoggettata a un tetto massimo, che è stato stabilito dal legislatore in 1.500 euro l'or di mensilio. L'ape inoltre è incompatibile con qualsiasi indennità di disoccupazione o con qualsiasi pensione diretta. Può essere cumulata unicamente con i redditi da lavoro dipendenti percepiti nel limite di 8.000 euro annui o con quelli di lavoro autonomo percepiti nel limite di 4.800 euro l'or di anno. Ai fini del riconoscimento della prestazione, il legislatore prevede un iter particolare, perché l'ape sociale è condizionato alla presentazione di una preventiva pre-domanda di accesso che l'interessato deve presentare all'Inps al fine di vedersi certificati l'esistenza dei requisiti di accesso stesso. Questa domanda deve essere inoltrata entro specifiche finestre temporali stabilite dal legislatore al 31 marzo 2023 e al 15 luglio 2023 e prevedendo che le domande presentate tardivamente rispetto a queste finestre temporali sono considerate unicamente se nell'anno di riferimento risultano dei residui rispetto agli ammontari che il legislatore ha stanziato annualmente per l'erogazione di questi tipi di prestazioni. Una volta che il lavoratore interessato ha ottenuto la certificazione del possesso dei requisiti necessari per richiedere la prestazione, potrà richiedere a sua volta la prestazione che decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.